Buongiorno, sono Matteucci Riccardo, titolare della Digisonic S.R.L. e della Camer Security SAS. Come Digisonic produciamo e realizziamo sistemi di automazione, sollevatori TV, TV Lift, staff motorizzate e quant'altro comprende la parte meccanica di movimentazione sia dei televisori che di altre soluzioni. Come Camer Security invece ci occupiamo di sicurezza come dice anche il nome, quindi andiamo dai sistemi integrati di anti-intrusione, anti-rapina, controllo accessi, video sorveglianza e impianti di rivelazione incendio omologati, oltre che essere produttori di qualche componente, siamo anche installatori, quindi integratori di sistemi di fatto. Questo che presentiamo è un prodotto, si chiama Chimede, è un sollevatore TV, come possiamo vedere, estremamente silenzioso e in più abbiamo fatto adesso un nuovo sistema di chiusura comandica dello sportello. Lo sportello in questo caso è frizionato, vuol dire che quando va a chiudere lo sportello, anche se mi rimane una mano appoggiata sopra, non mi scaccia e chiude perfettamente. Questo grazie a una frizione meccanica. L'altra cosa che è stata fatta, sempre sullo stesso meccanismo, che possiamo vedere qua, è la rotazione dello schermo. La rotazione dello schermo che non usiamo il radiocomando, ma usiamo direttamente il telecomando del televisore. Questo per dare al cliente la possibilità di, indipendentemente della marca di televisore che va ad acquistare, memorizzare direttamente il meccanismo e utilizza lo stesso telecomando, sia per controllare la televisione che per comandare anche in questo caso. Ed ecco, arriva in fondo e vedremo la chiusura della sportella. Grazie.